Andres Lasso, quali sono i punti principali del suo programma? I punti più importanti che abbiamo affrontato sono mobilità, rifiuti, urbanistica, ci sono diverse questioni urbanistiche sul piatto, una di queste è la questione stadio, poi anche ambiente, fiumi e torrenti, verde pubblico, partecipazione, è un programma molto vasto in cui abbiamo trattato a 360 gradi tutti i punti più importanti della città. Cosa ne pensa delle grandi opere? Le grandi opere vanno bene se servono per i fiorentini e quindi vanno pensate in questo contesto, sull'aeroporto, sulla pista parallela siamo nettamente contrari, sul discorso Foster c'è attualmente un pasticcio, nel senso che bisogna capire che progetto c'è dietro, se il progetto è quello di avere un decimo dei passeggeri che fermano alla Foster e 9 decimi a Santa Maria Novella, cito i dati dell'assessore Giorgetti, tutto questo non ha senso, siamo contrari, se si ritorna al piano iniziale che prevedeva un servizio urbano ferroviario e tutti i treni che passano sotto e fermano alla Foster, allora questo ha un senso e siamo favorevoli. Che sensazione ha? Che cos'è che manca alla città di Firenze? Manca visione, manca capacità di progettare e di gestire anche fenomeni complessi come quello del turismo di massa. Se vediamo il turismo porta degli effetti benefici ma anche degli effetti negativi, uno di questi è quello che si chiama gentrificazione, c'è lo spostamento di masse di fiorentini verso i quartieri periferici o addirittura i comuni limitrofi. Per fare questo bisogna regolare gli affetti brevi, penso a Airbnb ad esempio, significa anche riflettere e ripensare.